La giunta regionale si è riunita questo pomeriggio a Campobasso per affrontare la questione della stabilizzazione degli infermieri molisani in osservanza del decreto Madia e vediamo com'è andata. I precari della sanità molisana che in Molise sono rimasti a lavorare con contratti a termine impugnano il bando per la stabilizzazione emanato dall'ASREM che vuole la stabilizzazione anche di quelli che sono andati in questi anni a lavorare fuori regione seppure con contratti sicuri. Pochi latesi, 140 posti all'oro riservati, intanto gli infermieri molisani che da anni lavorano fuori costituiscono un comitato per difendere il proprio diritto a rientrare a casa loro. Una situazione che necessita di una soluzione che ha visto per questo sedersi attorno a un tavolo rappresentanti della struttura commissariale dell'ASREM Regione Molise e sindacati. Per entrambi i lavoratori c'è bisogno innanzitutto della copertura finanziaria che c'era stata garantita dal Presidente nell'appuntamento precedente per cui sulla base di quello dovremmo avere la possibilità sia di permettere ai 140 lavoratori, 140 posti previsti per la mobilità, di rientrare in mobilità e sia la stabilizzazione di tutto il personale precario avente diritto secondo quelli che sono i requisiti previsti dalle norme in particolare del decreto Madia che parte dal 1 gennaio 2018. L'assicurazione quindi è che verranno stabilizzati tutti? Dal nostro punto di vista possono essere stabilizzati tutti perché quelli che già lavorano sono a costo zero in quanto lo stipendio si sta già pagando lo stipendio e perché quei posti sono già presenti nelle dotazioni organiche perché la sanità molisana ha bisogno di professionalità e di competenze, ha bisogno quindi di altri posti di lavoro per cui anche gli altri 140 che erano stati già previsti in dotazione organica ci dovrebbero portare il fabbisogno del personale spero oggi, anche per loro ci sono le possibilità, poi tanti pensionamenti che ci saranno e che ci sono stati che potranno vedere ulteriori forze entrare tra le fila dei lavoratori della sanità. L'auspicio è quello di migliorare quella che è la sanità molisana attraverso giovani forze, competenze e professionalità che possono essere non soltanto quelli che già ci lavorano ma quelli che vengono da fuori e quelli che iniziano questo percorso e questa carriera.